Buonasera, Giorgia Meloni, Presidente di Treda dell'Italia. Allora, ci aspetta un mese molto molto duro. Come vedremo dopo, analizzeremo nove regioni, diciamo sette regioni e due province autonome. Certamente da lunedì diventeranno rosse, tra queste il Lazio che è la sorpresa perché passa da giallo a rosso. Sulle altre si sta discutendo se mantenere qualcuna gialla, se fare tutto arancione. Insomma, una situazione difficile e naturalmente ci prepariamo a quello che Draghi chiama l'ultimo sacrificio con molte persone che faranno la vero scettica. Beh, l'abbiamo sentito dire spesso che sarebbe stato l'ultimo sacrificio, direttore. Ma vale che avrebbe fatto al posto di Draghi, scusi. No, ma non dico al posto di Draghi, dico che comunque anche le misure che sono state con DPCM prorogate da questo governo sono misure di continuità con quelle che sono state portate avanti nell'ultimo anno. Ed è lecito chiedersi se dopo un anno siamo ancora qui, se diciamo non fosse il caso di mettere in discussione il modo con il quale si era operato. Perché vede, noi di fatto mi pare che stiamo andando verso un lockdown nazionale. Lo chiamano in un altro modo, ma quello è. Noi stiamo andando... Non completamente, insomma. Vedrà da qui a... no, si diceva facciamo il lockdown nazionale per Pasqua. L'impressione che ho io è che alla fine si stia cercando di chiamare con un modo meno... no, diciamo che mette meno ansia ai cittadini, quello che di fatto sarà un lockdown nazionale. Poi qui apriamo e chiudiamo parentesi. Io continuo a sostenere la battaglia del think tank, l'Etera 150, che chiede la pubblicazione dei dati sulla base dei quali vengono calcolate, vengono diciamo colorate le regioni, perché anche questi numeri non sono pubblici. E secondo me non è una cosa normale che non lo siano. Beh, però il presidente delle regioni... Il Lazio stasera, l'assessore dell'organità, ha detto noi siamo il limite per la zona rossa è 1.25, noi stiamo stasera a 1.30, quindi da lunedì andiamo in zona rossa. Perfetto, però i dati, ricordo che sono, mi pare, 21 o 22 i parametri che vengono utilizzati per colorare le regioni, e noi questi dati non li abbiamo pubblici. Il caso del Lazio va molto colpito, perché fino a ieri tutti dicevamo che il Lazio era curiosamente una regione, e quindi va bene, è cambiato tutto. Però, chiusa parentesi, diciamo sulla pubblicazione dei dati, noi stiamo andando verso un altro lockdown. E per carità, se serve il lockdown, si fa il lockdown. Come abbiamo, diciamo, affrontato in questo anno, molti traguardi che ci venivano ogni volta allontanati. Però se siamo qui, forse vuol dire che le visure non hanno funzionato. Allora, quando Draghi arriva, e come prima cosa mi proroga, il decreto per la chiusura dei ristoranti la sera, la chiusura delle palestre, invece di fare quello che secondo me andrebbe fatto, e cioè invertire il paradigma. Cioè lei, nonostante le regioni rosse, avrebbe mantenuto aperti i ristoranti? No, ma non è questione di tenere aperti i ristoranti. Io, diciamo, avrei lavorato in un altro modo. E io penso che noi dobbiamo, diciamo, capire dov'è il problema del contagio. Perché, direttore, possiamo anche continuare a fare finta che lo stesso ristorante nel quale la gente non si contagia rispettando quei protocolli a pranzo diventi poi contagioso la sera. Ma non siamo, voglio dire, così stupidi da crederci, credo, ok? Dove sono le principali zone di contagio? A spanne, io non sono un virologo, ma, diciamo, posso dire da osservatore, i mezzi pubblici. Ma allora perché c'è... Ma uno che arriva, scusi, uno arriva e mi dice guardate, mi date 60 giorni, 30 giorni per risolvere il problema dei mezzi pubblici. Non vedrete più la gente stipata a centinaia sulle metro e sugli autobus domani mattina perché quello è il problema che dobbiamo risolvere. Sa perché? Perché noi adesso chiudiamo a Pasqua, teniamo gli italiani un altro mese, sperando, poi, diciamo, adesso parliamo della campagna vaccinazione, perché quello chiaramente adesso è il nostro, no? Quello è l'obiettivo, no? Però, siccome anche quello non è detto che risolva, perché poi le varianti, perché poi i vaccini... No, diciamo, ragioniamo adesso prima dei vaccini. Mi date 60 giorni e io vi risolvo le tre questioni che sono fondamentali, secondo me, che sono più difficili da affrontare dalla politica. Questa però ce lo dici adesso. Ve lo dico dopo. Sono più difficili ma più efficaci. Invece la politica continua a fare la scelta di... Vabbè, chiudiamo le palestre e facciamo la parte che abbiamo risolto. E poi parleremo anche di questa grada, che ci è capitato, ma non la sfortuna, questa storia del sequestro del vaccino, del lotto di AstraZeneca, dopo che sono morti due militari. Più uno hanno fatto l'autopsia e dice che non c'entra niente. Però è chiaro che il pubblico ministero che ha aperto l'inchiesta si è vaccinato con AstraZeneca. Dice non vi preoccupate. Però, insomma, molta gente è preoccupata e quindi, vabbè, torniamo subito dopo il TG 60 Secondi. Buonasera a Pubblico Portaporto, buonasera a Giorgia Meloni, presidente dell'Italia. Buonasera a professore Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università degli Studi di Milano. Buonasera a Fiorenza Sarzanini, vice direttore del Corriere della Sera. Allora, guardiamo subito... Buonasera a voi. Allora, guardiamo subito due cartine. la situazione che c'è stasera e la situazione che potrebbe esserci quasi certamente da lunedì. Allora, vediamo come stiamo messi oggi. Vedete che ci sono delle macchie di giallo, insomma, il Lazio, la Puglia, la Sicilia, la Calabria, la Sardegna bianca, a quanto pare che Dio la conservi. E andiamo a vedere invece quella che quasi con certezza sarà la situazione da lunedì. e cioè tutto, già ci sono sette regioni, due province autonome e del nord-est, diciamo, che diventano rosse, tutto il resto ha ragione, tranne la Sardegna. Fiorenza, tu che segui tutti i giorni, da mesi, con attenzione, è corretta questa seconda cartina? O può ancora peggiorare? No, la seconda cartina è giusta. Come avete detto nella premessa, il Lazio, che doveva essere arancione, ha appena comunicato un RT sopra l'1,3 e quindi va direttamente da giallo in fascia rossa. E la Sardegna resta bianca? Sì, la Sardegna dovrebbe rimanere bianca. Non ci sono controindicazioni, anche perché ha dei dati buoni e soprattutto ha dei numeri, delle terapie intensive e dei ricoveri ancora, diciamo, incoraggianti. Allora, guardiamo un momento la situazione dei vaccini. No, mi dicono adesso in Francia. Per esempio, la Francia non va avanti tranquillamente con AstraZeneca. Su 5 milioni AstraZeneca, soltanto dice 30 problemi. No, per la verità, tutti su 5 milioni di vaccinazioni, in 30 casi ci sono stati dei problemi alla trombosi. Vorrei sentire subito un parere del professor Pregliasco. Allora, una situazione che vede due condizioni che si mettono insieme e che peggiorano una narrazione, ed è un peccato, riguardo alla qualità del vaccino AstraZeneca, già considerato da molti tifosi di serie B. ingiustamente perché ha prestazioni assolutamente paragonabili agli altri vaccini. Questo tipo di, diciamo, chiusura, di sospensione dell'utilizzo è tipico dell'AIFA, dell'EMA, perché se si va a vedere sui loro siti, non dico ogni giorno, ma quasi, ogni farmaco ha dei momenti di chiusura e di sospensione cautelativa, come in questo caso. Il dato complessivo che l'EMA ha proprio emanato quest'oggi ha detto che su 5 milioni di dosi, 30 casi di tromboembolia, che sono paragonabili a quelli della popolazione generale, quindi dei non vaccinati. Una situazione che deve essere letta, ma non è facile, come elemento di attenzione e di trasparenza rispetto alla esigenza di monitorare la sicurezza di una campagna vaccinale, che però deve essere assolutamente importante, deve essere rilanciata. Purtroppo già oggi io stesso ho ricevuto chiamate angosciate di chi ha già ricevuto AstraZeneca o che nei prossimi giorni dovrà farlo. Il messaggio è continuiamo a vaccinarci, perché è fondamentale in questo momento di rialzo della curva, perché questo virus lasciato a sé va. Riepiloghiamo. Il vaccino AstraZeneca finora è stato utilizzato per le persone che hanno meno di 65 anni, quindi professori, docenti e militari. Sono morti due militari. In un caso, uno è morto proprio poche ore fa e non sappiamo ancora perché, l'altro invece è morto da qualche giorno, l'autopsia ha escluso che ci fossero delle affinità con il vaccino. Dopodiché la magistratura ha sequestrato il lotto al quale sono state prese queste dosi che hanno procurato la morte di queste due persone, ma continua la vaccinazione. L'EMA dice continuate. Lo Stato italiano che fa? Si dice continuare, ma il problema non c'è solo in Italia con quel lotto per quelle due morti che hanno determinato questo ritiro. C'è in Danimarca e poi conseguentemente in altre nazioni anche qui un'attenzione all'aspetto della trombosi. Cioè si sono inseriti due, proprio nella stessa giornata, situazioni non coincidenti e legate in questo caso nello specifico alla tromboembolia per un lotto diverso da questo. Quindi elementi che stanno portando a queste decisioni che, come dicevo, sono normali. È chiaro che con l'attenzione, con l'aspettativa della vaccinazione sono diventate una problematica a livello mondiale. Ma davvero vediamolo in uno senso. Grazie, professor Pegliasco, per essere stato con noi. Vediamo un momento quanti sono 6 milioni di italiani che sono vaccinati, ma vediamo come sono divisi. Sono 1 milione e 800 mila, lo vedete in questi grafici, 1 milione e 800 mila sono quelli che hanno avuto le due dosi, cioè il 3% della popolazione. Sono 4 milioni e 2, cioè il 7% della popolazione, quelli che hanno avuto soltanto la prima dose. E ahimè ci restano ancora da vaccinare 44 milioni e 700 mila persone, perché gli italiani vaccinabili sono 70 milioni, perché sono 10 milioni, beati loro, di giovani, per i quali sotto i 16 anni, per i quali non si fa. Fiorenza, secondo te avremo, diciamo, la freddezza per continuare a vaccinarci e a convincere le persone a vaccinarci con AstraZeneca? Io spero proprio di sì, perché poi se dobbiamo fare un discorso quasi cinico, allora il rischio di prendere il Covid è certamente più alto del rischio del vaccino, ma non è questo il problema. Sappiamo benissimo, come dice il professor Pegliasco, che tutti i farmaci possono avere reazioni avverse, peraltro qui non c'è alcuna prova scientifica che ci sia stata. È giusto che andiamo a vedere, perché poi è giusto soprattutto nel momento in cui questi vaccini hanno sicuramente avuto una sperimentazione più breve. Non a caso, AstraZeneca all'inizio era stata autorizzata per i vaccini e solo fino a una certa età, proprio perché non c'era stato il tempo di fare la sperimentazione. Dopodiché, ripeto, io credo che per uscire da questa pandemia il vaccino sia una delle armi fondamentali, l'arma diciamo micidiale per battere questo virus, quindi mi auguro proprio di sì. Lei si vaccinerebbe con AstraZeneca? Guardi, io di solito da questo punto di vista, insomma ascolto quelle che sono le indicazioni della comunità scientifica, però le voglio dire una cosa. Penso che la paura si combatta con trasparenza, con informazione chiara, e questa trasparenza non c'è stata finora. In che senso? Ci arrivo. Nel senso che noi siamo partiti parlando dell'obbligo vaccinale, invece di partire... Un nanosecondo è durato. Sì, sì, vabbè, però questo è stato un dibattito anche su noi politici, i politici li vacciniamo prima, un po' la De Luca, no? Allora, vaccinatevi tutti! Queste cose si lavora seriamente. Quello che ha detto il professor Pregliasco è più prezioso di De Luca o della Meloni che si vaccinano prima degli altri, per cui serve informazione, serve presenza della comunità scientifica, e serve trasparenza da parte della politica. Che cosa intendo? Intendo che, secondo me, non aiuta il fatto che l'Unione Europea abbia deciso di secretare i contratti che aveva stipulato con le case farmaceutiche. E questo non sta bene. Perché è una cosa che, chiaramente, intanto grida vendetta, perché sono soldi dei cittadini europei, quelli che l'Unione Europea sta spendendo, e allora di grazia se possiamo anche sapere come li stiamo spendendo. È interessante, dopodiché, quando abbiamo letto alcuni di questi contratti, abbiamo scoperto che l'impegno che è stato dato a queste società farmaceutiche, riempite di miliardi di soldi dei cittadini europei, era fare del loro meglio. Mi dica lei se esiste nel diritto civile un contratto nel quale tu compri qualcosa e quello si impegna a dartelo al meglio. Come posso fare? Ti farò sapere. Tant'è che oggi stiamo vedendo cosa è accaduto. Ma al netto, diciamo, di questo tema qui, è ovvio che, diciamo, quando tu nascondi qualcosa, i dubbi aumentano. Per cui io credo che servisse. Atteso che, diciamo, questa vaccinale è il più grande, sulla campagna vaccinale, il più grande fallimento dell'Unione Europea dal Trattato di Roma del 1957, per come la vedo io. L'Europa, in tutto il mondo producono vaccini, vaccinano la gente, in Europa è un disastro. E forse questo ci riporta, diciamo, a qualche tema che delle volte abbiamo posto, non esattamente per ragione ideologica, ma per un fatto di consapevolezza. Dopodiché, io penso che noi dobbiamo, quindi, fare campagna di formazione, campagna di informazione, campagna di trasparenza, che dobbiamo lasciare ai cittadini non solo la libertà, ovviamente, vaccinale, ma la libertà di scegliere il vaccino. E questo si fa se hai più vaccini a disposizione. Cioè, lei dice ogni cittadino dovrebbe potersi scegliere il vaccino? Certo, ma scusi, per cui... E va così, non è possibile. Ma scusi, scusi, Angela Merkel l'ha fatto. Angela Merkel ha rifiutato di fare il vaccino a AstraZeneca, non perché ce l'avesse con AstraZeneca, ma banalmente ritenendo che non fosse adatto alla sua persona, e ha deciso di non farlo. Quindi ha lanciato un messaggio. Ora, la Merkel è sempre un mito per noi, non è pericolosa come la Peloni, ma è una persona che sta in Germania, si faceva AstraZeneca. Ma lasciamo stare. Ha stabilito un principio, perché queste sono tematiche serie. Allora, io penso a che ci dovrebbero essere più vaccini in Italia, e adesso le spiego anche la proposta che ha fatto Fratelli d'Italia per aiutare il governo da questo punto di vista. Perché questo si può fare, chiaramente, se tu hai disponibilità di dose di vaccino. Certo, l'ho detto subito. Cioè non siamo al supermercato? Non siamo al supermercato, ma stiamo comunque parlando della salute della gente. È un tema molto serio. E quindi più garanzie riusciamo a dare, più tranquillità riusciamo a dare, più è facile che le persone siano anche più disponibili e più disposte. Quindi dobbiamo cercare di mettere insieme una campagna che sia seria. Ad oggi noi abbiamo un problema di dosi e di vaccini disponibili. La proposta qual è? L'abbiamo perché abbiamo appunto demandato all'Unione Europea che ha trattato alcuni vaccini per nostro conto male. Ci sono una serie di altri vaccini sul mercato che non sono stati trattati dall'Unione Europea, sui quali i singoli paesi potrebbero trattare singolarmente. E lo stanno facendo? Lo stanno facendo, attendendo però che sia l'EMA che l'AIFA, quindi le autorità preposte, facciano tutto l'iter burocratico per dirci se quel vaccino, secondo le nostre norme... Sto riferendo a Sputnik? Ma Sputnik, ma ce ne sono diversi. Guardi, io non ho... Adesso non mi fate dire cose che non mi competono. Io non ho gli elementi per dire se Sputnik piuttosto che è sicuro per i cittadini. Io no. Ma il governo italiano sì. La comunità scientifica sì. A livello nazionale e internazionale. Non possiamo stare lì ad aspettare con la normale burocrazia che l'EMA, l'AIFA ci dicono se si può fare. Lo dico perché è previsto dalla legge. E' questa la proposta che avevamo fatto. Cioè il decreto del 2006 che tratta il tema diciamo dell'iter burocratico per la messa in commercio dei farmaci dice anche che in casi eccezionali tu puoi derogare all'iter burocratico per mettere subito in commercio quel farmaco. Io ho detto già una settimana fa Roberto Speranza come vi assumete la responsabilità di chiudere la gente dentro casa dopo le 10 di sera o di chiuderla nel fine settimana? Assumetevi anche la responsabilità sulla base delle pubblicazioni scientifiche di quello che sta accadendo negli altri paesi di dire questi vaccini e di cominciare a trattare con queste case farmaceutiche. Uno può prescindere da quello che dice l'EMA cioè l'agenzia europea difficilmente un governo può prescindere da quello che dice l'AIFA cioè l'agenzia italiana che fa... Io sto dicendo che... Allora... Può farlo in denoga Lo può fare Lo può fare Lo può fare Quindi difficilmente lo può fare in teoria lo può fare E siccome parliamo di farmaci che si stanno somministrando a milioni di persone quindi non di un farmaco che nessuno conosce sui quali ci sono pubblicazioni scientifiche certo l'AIFA starà lavorando estremamente sodo però siccome abbiamo visto che in questo ultimo anno siamo stati velocissimi a privare le persone delle loro libertà fondamentali ma l'unica cosa che non siamo riusciti a fermare è stata la burocrazia penso che non possiamo stare in balia della burocrazia quindi se ci sono delle cose che noi possiamo fare per velocizzare l'iter avere più vaccini a disposizione trattare singolarmente come Stato nazionale atteso che l'Europa ha fatto un disastro con tutti quelli con i quali possiamo trattare va fatto adesso è più importante e su questo bisogna assumersi maggiori responsabilità di tutte quelle gravissime che la politica si è assunta in questo ultimo anno perché voglio dire ripeto come chiudi la gente dentro casa in una nazione libera ti puoi anche assumere la responsabilità di dire se il vaccino va bene o no siccome le chiusure sono sempre un fatto traumatico e nessuno credo che si diverta a farle ci sono anche delle posizioni diverse nel governo senti aumento Antonio Polito editorialista del Corriere della Sera come al solito il governo sfoglia la margherita delle chiusure e come al solito due partiti si sono formati nell'esecutivo uno composto da coloro che vogliono chiudere di più e l'altro da quelli che vogliono tenere aperto di più anche le linee di divisione sono pressa poco quelle di prima il ministro Speranza e i suoi colleghi Franceschini del PD e Patuanelli dei 5 Stelle sono per un maggior rigore nell'imporre il distanziamento sociale mentre la componente di centrodestra i ministri Giorgetti e Gelmini ma anche i Bonetti di Italia Viva sono più preoccupati della condizione economica e sociale del paese e preferirebbero chiudere il meno possibile l'impianto però non è cambiato si procede sempre per DPCM e si continua con i colori invece che con misure unificate su tutto il territorio nazionale per cui la vera differenza con il governo precedente è che oggi il contrasto resta nell'ambito della maggioranza dovrebbe provocare dunque meno tensioni e polemiche politiche se non fosse che anche le regioni sono divise Campania Puglia Lazio governate dal centro-sinistra propongono misure drastiche e nazionali le altre con l'aiuto di Bonaccini per l'Emilia Romagna preferiscono lasciare più margini di autonomia locale pur consapevoli della gravità della situazione alla fine però queste divergenze riguardano solo dei dettagli fermo restando infatti che la stretta ci sarà perché i numeri della pandemia dicono che ci deve essere resta da decidere se fare la zona rossa nazionale a partire da questo weekend o dal prossimo sapendo che comunque durerà fino a Pasqua compresa d'altra parte i meccanismi già previsti per le zone a colori funzionano automaticamente e le regioni che stanno per passare in rosso di destra o di sinistra che siano sanno che dovranno sopportare le limitazioni più stringenti già previste dal DPCM di una settimana fa a proposito di DPCM c'è una vignetta di non Osho che la vede vicino a Salvini guardiamolo un momento boh basta parla male dei DPCM chiaro? però quando gli faceva Conte come diceva le navi e poi vediamo un momento Draghi e Conte in che cartella l'hai salvati i decreti ristori? dovrebbero stare nella cartella dirette del sabato magari cerca di non farli proprio uguali la cartella diretta del sabato Fiorenza Sardanini brevemente credo che le distinzioni che ci sono nel governo ci siano anche all'interno del Comitato Tecnico Scientifico per quanto ne so beh sì sicuramente ma perché poi all'interno del Comitato Tecnico Scientifico ci sono persone che hanno diciamo delle visioni diverse per quanto riguarda le chiusure e che però alla fine fanno sintesi come credo mi pare speriamo avviene anche nel governo perché poi è evidente che rispetto alle misure c'è chi io volevo dire solo una cosa per precisare nel senso che questa cosa dei ristoranti che uno si infetta a pranzo e non si infetta a cena in realtà il problema è un altro cioè la circolazione delle persone quindi non è perché io anche ho parlato tante volte con i ristoratori quando noi scriviamo gli articoli sul DPCM che dicono appunto secondo me il vero problema e appunto poi si vede quali sono le misure prese nelle zone rosse eccetera è evidente che dopo un anno tutto ci sembra faticoso ci sembra difficile e purtroppo non si vede la luce ecco non si vede la luce perché le varianti poi hanno contribuito a creare una situazione ancora più grave quello che dicevano onorevole Meloni sull'Europa è non vero ma verissimo cioè non è possibile che noi noi come Corriere abbiamo fatto un articolo anzi due articoli per svelare i dettagli dei contratti ma è assurdo che ci siano contratti secretati quando poi si scopre che le clausole di salvaguardia per gli stati non prevedono che di fronte a un AstraZeneca o Pfizer che ritardano nelle consegne non ci siano delle penali forti ma solo dei rimedi che si devono presi perché sono troppi presi pubblici si è dovuta scusare per questi contratti fatti così quindi è giusto che adesso proprio perché la campagna vaccinale entra nel vivo ci sono questi dubbi probabilmente sarebbe opportuno che fossero appunto resi noti e in maniera trasparente i contenuti di questi contratti lei voleva intervenire sulla storia pranzo e cena sulla vicenda di pranzo e cena chiaramente lo so anch'io poi semplifichiamo io lo so anch'io che la cosa è stata motivata sostenendo che così la gente non va in giro la sera e so anche io e io so anche come diceva correttamente la dottoressa Sarzanini che oggi ci sembra tutto difficile ma poi possiamo anche rinunciare diciamo così immagino fosse questo no il sottinteso ad andare a cena il problema non è questo io potrei raccontare di modelli nei quali hanno tenuto aperti i ristoranti senza che la gente andasse in giro la sera a Monte Carlo tu puoi andare a cena fino alle 10 al ristorante dopodiché il ristoratore ti fa un timbro su un foglio e entro 30 minuti devi stare a casa avrebbe consentito alla gente di mangiare al ristorante a quelle attività di lavorare perché adesso arrivo a quello a cui in realtà stiamo rischiando senza mandare in giro la gente di sera ma quello che noi quello a cui noi stiamo rinunciando oggi non è andare a cena quello a cui noi stiamo rinunciando è la sopravvivenza di migliaia e migliaia di aziende di un pezzo del nostro tessuto produttivo che è in ginocchio per non ottenere il risultato e diciamo qui torno indietro alla premessa aspetti che le faccio vedere un caso purtroppo molto molto triste perché dopo 127 anni a Venezia chiude il ristorante antica Carbonera proprio era un simbolo e vediamo il momento con Andrea Rossini del UGR Veneto gli arredi venivano dallo yacht della principessa Sissi il Miramar bottino di guerra dopo il 1918 i mobili erano stati acquistati dai primi gestori dell'antica Carbonera lo storico ristorante veneziano a due passi dalla riva del Carbon a Rialto hanno comprato tutta quanta la buona si vede la sala da pranzo l'hanno smontata numerata e rimontata qui dentro e con altri pezzi di fasciame hanno fatto tutta questa parte qua praticamente la pavimentazione ora l'antica Carbonera non esiste più i titolari hanno dovuto chiudere fa male fa male perché comunque 17 anni sono 17 anni della nostra vita quindi anche mio figlio è cresciuto qua dentro due sale più una terrazza che guarda il teatro Goldoni 140 coperti questa era un'impresa che funzionava dopo l'acqua alta del novembre 2019 è arrivato il Covid e i gestori non si sono più ripresi un fatturato che poteva essere adesso vado un po' a spanne ma un 600 di 100 mila euro 800 mila euro all'anno e siamo arrivati praticamente a zero non a poco affitto del locale 11 mila euro al mese 8 i dipendenti più quelli a chiamata i ristori non sono serviti a nulla abbiamo visto due piccole transiche praticamente per quanto mi riguarda va a coprire un mese un mese e mezzo due mesi forse di affitto del locale le spese hanno sempre continuato dalla spazzatura a Venezia a qualsiasi altra bolletta che è sempre continuata ad arrivare è anche piena anche se non lavoravi ed è richiusa il menu era in 15 lingue diverse ospiti da tutto il mondo Andrea e Barbara hanno cercato di tenere aperto da soli lei in sala e lui in cucina nell'ultimo weekend di zona gialla sono venute due persone se sente che tiene duro teniamo duro io non ce l'ho più fatta a tenere duro veramente se no avrei continuato e purtroppo non sono non sono i soli sono migliaia di aziende e il rischio che oggi per troppi imprenditori chiudere sia risulti diciamo così molto più vantaggioso che stare aperti è un rischio che noi denunciamo da credo aprile dello scorso anno e ripeto poi magari arriviamo ai ristori il tema qual è per quanto noi continuiamo a spendere soldi in deficit poi le risorse sono quelle noi questo pezzo di economia italiana non lo riusciremo mai a diciamo ristorare a sostenere quello che produce e lavorare e quindi io dico il dubbio dicevo all'inizio che queste chiusure settoriali in realtà non abbiano risolto il problema e che si debba lavorare su altri fronti viene a qualcuno perché poi è possibile che con la campagna vaccinale adesso ci arrivo con la campagna vaccinale risolviamo tutto in due mesi ma è possibile anche di no dottor Vespa ce la diciamo la verità perché poi i vaccini non ci sono in ogni caso ci saranno ci saranno in ogni caso ci sono le varianti e io ho letto sul sito dell'AIFA ma magari vengo smentita per esempio non è materia mia che comunque il vaccino ha una copertura che va da 9 a 12 mesi e se ti arrivano le varianti prossimo anno ricominci da capo ok quindi il rischio che questa cosa è come quello sull'influenza perfetto per cui insomma no intanto il rischio è un rischio che tu si continui diciamo a non affrontare a rincorrere questa domanda allora tra il ristorante aperto la sera e la metropolitana dove sta il covid perché è inutile che io chiudo un altro weekend di ristoranti e quando il lunedì mattina devo tornare a lavorare o devo portare mio figlio a scuola mi ritrovo nella stessa situazione punto primo le scuole l'abbiamo detto cento volte porto l'esempio della regione Marche che mentre al governo i famosi banchi non ci vogliono neanche tornare si occupava di spendere qualche milione di euro per dotare tutte le classi di aerazione meccanica controllata che secondo gli esperti è il modo migliore per impedire i contagi perché l'aria circola continuamente c'è arrivato Francesca Acquaroli Fratelli d'Italia gli altri non c'erano arrivati perfetto ultima cosa sulla quale mi sono sgolata in questo anno allora ancora oggi il 95,6% di chi muore a causa del covid ha più di 65 anni l'80% credo 3% più di 70% perché ancora oggi non ci siamo dati come priorità mettere in sicurezza gli anziani perché non c'è un'assistenza domiciliare perché non ci sono le corsie riservate nei supermercati alla posta perché perché non si è fatta la cosa più banale che ci sarebbe oltretutto costata meno di ammazzare migliaia e migliaia di attività economiche in questa nazione serviva organizzazione e io non mi farò mai una ragione di questo fatto e quindi continuare a dire chiudiamo le palestre diamo atto che adesso l'organizzazione sta migliorando e certo sta migliorando dopo un anno dottor Vespa io questa cosa Fratelli d'Italia l'ha proposta nel mese di aprile del 2020 c'era tutta l'estate per organizzarla seriamente si poteva fare avevamo anche offerto le nostre proposte proprio precise su che cosa utilizzare su chi utilizzare oggi saremmo di fronte a un'altra realtà e allora io quando mi arriva Mario Draghi dicevamo in apertura e mi ridice e vale essere i ristoranti pietà allora le faccio vedere per andare a quella che la divide ormai siete unitissimi per le regioni i comuni ma insomma vediamo un momento i rapporti invece con la Lega tra Fratelli d'Italia e Lega le faccio vedere due titoli del foglio la falsa notizia il nuovo gruppo a Bruxelles accende la gazzara e la Lega Meloni ride Salvini e il nuovo finto gruppo gli piacerebbe ma intanto l'ho smentito questo titolo non so a chi abbiano chiesto questa dichiarazione i nostri amici del foglio hanno interpretato il suo animo mettiamola così ah grazie sono contenta che si interpretino i miei animi con dei virgolettati però è curioso però scusi sta storia che fanno il gruppo conservatore ce l'ha lei quindi se devono fare un altro gruppo lo fanno che si chiama io sono presidente del partito dei conservatori che è anche il gruppo dei conservatori se devono fare un altro gruppo è un altro gruppo e non so di che gruppo si stia parlando per carità io ho parlato con appunto Viktor Orban con il PIS con il partito di Orban che lo scusa esatto con Fides nei giorni scorsi loro mi avevano avvertito che molto probabilmente insomma sarebbero usciti dal partito popolare europeo che verso di loro insomma era stato particolarmente aggressivo ma non hanno detto vogliamo entrare nel partito dei conservatori piuttosto vogliamo fare un altro gruppo vediamo io chiaramente da presidente dei conservatori europei non posso chiedere contenta se la famiglia si allarga ma non mi metto a fare il derby appunto ho letto sui quotidiani che ci sarebbe un derby tra me qualunque cosa accada in Italia c'è un derby lei non ha parlato con Salvini io non ne ho ancora parlato con Salvini non so cosa Salvini intenda posso dire che ho parlato con i conservatori europei e questa idea diciamo di sciogliere il partito dei conservatori non mi pare diciamo essere sul tavolo e di fare entrare Salvini e Orban eventualmente ammesso che lo vogliono quando loro dovessero chiederlo chiaramente non posso rispondere io su questo io sono presidente del partito ma come lei sa le sensibilità sono molte ma sicuramente insomma sarei interessata ad allargare il partito e a mettere la questione sul tavolo oggi voi avete votato insieme lega e fratelli Italia a Bruxelles su una norma per le libertà a lesbiche gay eccetera quindi in questo vi siete riuniti contro invece il partito democratico Movimento 5 Stelle Italia viva in questo momento devo dire più al Parlamento Europeo che in quello italiano perché mi è un po' dispiaciuto ecco di vedere alcune enorme alcune proposte che ha fatto Fratelli d'Italia sulle quali c'è stata una chiusura totale da parte di tutta la maggioranza di governo però se magari me lo aspetto più facilmente da PD e Movimento 5 Stelle da altri non me lo sarei aspettato guardi sono rimasta colpita da un emendamento che parlava della riapertura delle palestre nelle zone gialle altro tema sul quale ci sarebbe da discutere ora ore se lo faccio a dire dalla persona che lo sport lo fa la gran parte delle attività che si fanno in una palestra si possono fare rispettando il distanziamento e noi diciamo che chiudiamo i luoghi dove si fa sport per garantire la salute quando sappiamo bene che lo sport è il principale veicolo per garantire la salute perché quando tu smetti di fare attività sportive sportiva e non fai una vita sana il tuo sistema immunitario si abbassa e quando si abbassa il tuo sistema immunitario qualunque contagio corre più velocemente sono rimasta colpita da dicevo perché noi abbiamo portato questo emendamento alla fine è stato votato favorevolmente solo da Fratelli d'Italia è stato votato ha votato contro la sinistra e si è astenuto tutto il centro-destra e se lei avesse guardato i numeri se il centro-destra avesse votato con noi l'emendamento sarebbe passato ma stanno in maggioranza però è la dimostrazione di quello che io stanno in maggioranza e vabbè stanno in maggioranza e che fanno un giorno sì un giorno no no scusi stanno in maggioranza ma credo che ci stiano e loro stessi hanno detto e sono contenta che ci stiano per questo perché io faccio l'opposizione dallo stesso punto di vista per diciamo cercare di portare uno spirito nuovo allora qualche volta se noi lavorassimo di più insieme secondo me si riuscirebbero a ottenere dei risultati sicuramente interessanti rapidamente un ultimo titolo sempre dal foglio Copa Sir e non solo ecco la zuffa a destra tra Salvini e Meloni ma anche qui non sono di nessuna zuffa guardi tra l'altro me ne sto occupando marginalmente lei avrà visto che lei avrà visto che fratelli allora noi siamo un'opposizione e quindi l'opposizione ha per un fatto diciamo costituzionale rispetto alla democrazia diritto ad avere alcuni spazi alcune sono prassi alcune presidenze di alcune commissioni il Copa si era una legge è una legge quindi io non ho chiesto niente nel senso che non mi sono messa mi aspetto che si rispetti la legge perché se non si rispetta mi spavento anche perché voglio dire lei capisce noi siamo un'opposizione che in Parlamento è il 5% contro il 95% del resto del genere umano il governo Monti ma il governo Monti però per un'altra cosa eh no scusi il governo Monti era un'altra fattispecie perché il governo Monti era un governo di ministri interamente tecnici il presidente del Copa Sir chiaramente è una interfaccia di controllo sul governo e il fatto che si interfacci esatto con ministri politici sarebbe una precedente drammatico e pericoloso brevemente Fiorenza perché siamo in chiusura secondo te come va a finire il rapporto Salvini-Meloni? Ma secondo me il rapporto Salvini-Meloni poi alla fine continua a reggere il problema è che eh giustamente l'onorevole Meloni dice noi non siamo stati ascoltati e non però appunto poi stare all'opposizione è più semplice si è visto per esempio Salvini che era molto più aggressivo quando era all'opposizione ora che ha deciso di entrare nel governo anche sulle chiusure si dice vogliamo tenere aperto però poi se il governo chiude non mi sembra che la Lega stia facendo troppo le barricate il problema secondo me è semplicemente questo volevo dire solo ed esclusivamente questo purtroppo è vero ci sono stati tanti tanti errori l'Italia sicuramente in Italia sono stati fatti tanti errori è vero anche secondo me che le altre nazioni tiene Europa che altrove non stanno meglio e quindi ha ragione l'onorevole Meloni quando dice bisogna sostenere le attività perché quando questa pandemia sarà terminata noi ci troveremo tra le macerie però penso che questo appello vada rivolto anche ai cittadini lunedì l'Italia torna in già in rosso arancione sabato e domenica ci sono molte regioni gialle c'è il bel tempo anche i cittadini secondo me devono fare la propria parte lo so che questo è un discorso difficile perché come dicevo prima tutti siamo stanchi siamo stanchi delle restrizioni ma se ognuno non si assume la propria responsabilità da questa pandemia non ne usciremo davvero più un caligramma no molto velocemente perché per carità spesso si dice stare all'opposizione è più facile però vorrei anche ricordare che il modo con il quale Fratelli d'Italia sta facendo opposizione verso il governo Draghi è di estrema responsabilità ora il fatto di stare all'opposizione non vuol dire che tu prendi e dici quello che ti pare io mi pongo sempre con la stessa responsabilità soprattutto se si aspira ad andare domani al governo adesso parlavamo delle attività economiche io penso che voglio dire servirà un altro scostamento di bilancio non lo so li abbiamo sempre votati ma siccome stai indebitando i tuoi figli i soldi non li devi buttare in cose cretine allora l'Italia sta spendendo 5 miliardi di euro nel cashback la lotteria degli scontrini e ha finora messo 11 miliardi di euro sui ristori le si immagini io ho scritto a Draghi avevo provato a calendarizzare anche qui una mozione che era del centrodestra non ci sono riuscite ho scritto a Draghi e ho detto la valuti lei presidente non è il caso di togliere i 5 miliardi dal cashback e metterli sui ristori per le aziende sarà facile però mi pare anche serio grazie grazie a Fiorenza Sardagnini e adesso John Elke